Ciao a tutti, per cancellare la cronologia di Chrome su Android dobbiamo chiaramente aprire Chrome. In questo caso partiamo col nostro sito che è in configurazione per riempire un po' la cronologia. Da qua vi basta poi cliccare i tre puntini in alto a destra di Chrome e vedete subito che la terza opzione è cronologia. Cliccate e avrete la lista dei siti che avete visitato. Cliccate in alto su cancella dati di navigazione e adesso potete scegliere un po' di cose perché potete scegliere se cancellare solo la cronologia dei siti effettivi che avete visitato. Potete cancellare i vari cookie che i siti vi hanno salvato e poi se cancellare eventualmente file e immagini memorizzate nella cache per rendere quindi più veloci i siti durante il caricamento. Potete spuntare tutte e tre e poi in alto potete scegliere l'intervallo di tempo, cancellare la cronologia dell'ultima ora, settimana, giornata, mese e quant'altro. Voi fate cancella dati, confermate e siete a posto. Ecco qua, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao! Ciao!